...che si può sbloccare soltanto ad una soluzione, come questa l'ha trovata il bare, l'ha trovata Sabelli, palla sotto il cuocio, grade gol! ...che si può sbloccare soltanto ad una soluzione, come questa l'ha trovata il bare, l'ha trovata Sabelli, palla sotto il cuocio, grade gol! ...che si può sbloccare soltanto ad una soluzione, come questa l'ha trovata il bare, l'ha trovata Sabelli, palla sotto il cuocio, grade gol! ...che si può sbloccare soltanto ad una soluzione, come questa l'ha trovata il bare, l'ha trovata Sabelli, palla sotto il cuocio, grade gol!